No, figo, quest'oggi sono piuttosto sentimentale Era la principessa, sul suo testire reale Se la vedi, girano storte perché abbiamo fatto la n***a Frank, ma che cazzo? Comunque, bella raggi, sono Flane e bentornati Siamo qui oggi su GTA V E non so per quale motivo, da un mese a questa parte Ogni volta che inizio un video, vi devo morsicare la lingua, sempre Ma prima di cominciare, prima che Franklin si schianti con sta moto Vi trasciami un bel pollicione in su Cerchiamo di arrivare almeno a 7.000 mi piace per questa rampa E commentatemi qua sotto, l'ho scritto Il Poeta Perché abbiamo cominciato purtroppo con una delle poesie di Franklin Anzi, stanno cominciando troppo spesso i video con le poesie di Franklin E questa cosa non va bene, assolutamente A YouTube non piace Il saldo comunque che dovremmo fare è una sorta di roba verso sud-est È abbastanza incasinato perché i veicoli non avranno tanta possibilità di prendere lo slancio A meno che non superino l'ospedale Ma chi vincerà quest'oggi, secondo voi, lasciatemelo scritto qua sotto nei commenti Avremo finalmente quel pagliaccio Non lo so, ne dubito Andiamo col primo veicolo, io me lo sento Cioè, prossimo veicolo randomizzato Emperor, no Dinka Jester, super, no sportive, perdone Pensavo fosse super, ma poco importa, farà sempre schifo Riuscirà a fare qualcosa di buono 460, la sua uscita sulla rampa Tra l'altro ho tolto tutti gli speed che rompevano le palle Perché seriamente vi rallentavano troppo, troppo, troppo i veicoli Allora, l'atterraggio è meno della cosa Della, insomma, dell'811 dove va? Ok Ok, parte 2 A meno che non succeda una disgrazia, una catastrofe Non dovrebbe arrivare nemmeno tra le prime dieci a fine rampa Vedremo quest'oggi l'epica sfida ancora una volta Burrito rumpo, speriamo Next one, intanto abbiamo l'Emperor abanero sub L'abanero è buona, di brutto ha solo Emperor nel nome Ma io ci credo Non è vero, sto zitto, non dico niente Non ho visto la sua velocità d'uscita Ma dovrebbe essere migliore della cosa, della Jester Anche perché il salto è buono Molto buono, decisamente tanta roba Ma che cazzo il salto ha fatto? Dicevo, se atterra bene e prende lo slancio Ha fatto un salto assurdo Mi fa un sacco Sì No Sì no No sì Però no Cioè Non so cosa stia facendo Peccato per il capottamento Se no Cazzo è che esplodo ogni due secondi Se no, raga sarebbe arrivato tranquillamente Nei pressi delle rotaie Sarebbe difficile da vattene una macchina del genere Nuno da dire Partono cattivissimi SUV quest'oggi Ma prossimo veicolo Randomizzato Già un altro SUV No, è delle sportive questo Cosa c'entri con le sportive? Non lo so Essendo che i veicoli simili ai SUV sono dopati Ultimamente mi aspetto qualcosa di buono da lei Cioè, oddio Lei è un po' un incrocio Tra una super e appunto Cioè una super, una sportiva E un SUV Difatti fa meglio di una sportiva Ma meno di un SUV Allora Ho visto Di peggio con l'811 E con la Jester Ma ho visto anche di meglio con l'Abanero Non gli si può dire nulla Secondo me potrebbe anche entrare nelle prime dieci Dai, oh, però sto pagliaccio Porca troia Cioè, ogni tanto, no Cioè, sono super sportiva quest'oggi Next one Entity XF Mi farà il record di velocità Con un aumento dei 400 Qualcosa non lo so Perché non ho visto l'Abanero Non ci ho fatto caso Se l'ho detto non me lo ricordo Dove va? Dove sta andando lei? Mi fa come la Jester Forse di più No, forse di più No, forse meno No, forse meno Secondo me viva sul tetto Dalla traiettoria sembra così Dico bene? Esatto Le super delle sportive È la vacca Ti prego non darmi l'Emperor Per carità Tutto ma non l'Emperor Prossimo veicolo Solo delle super oggi C'è super sportive Next one Grotti Turismo R Anche da lei non mi aspetto assolutamente nulla Quindi faccia quello che vuole La velocità intanto di uscita Dei 470 Non mi pare malaccio Cioè, oddio Ha saltato meglio Delle altre due sportive super Dico bene? Esatto La Jester dovebbe essere dietro di lei Sì Se atterra bene mi fa anche dei metri Se atterra bene però Non ha sacco di patate Mi raccomando E invece no Non è stato Sacco di patate però Ha fatto schifo lo stesso Intanto terzo posto E avere una super Al terzo posto Non è che sia una delle cose più belle di sto mondo Next one Abbiamo BF Surfer Furgoni Per favore Si può suicidare Si può buttare qua sotto Maledizione Dove va? Questo mi finisce sulla piattaforma Ve lo dico io Cioè dal salto Mi pare proprio una roba del genere Però se finiscono sulla piattaforma Potrebbe anche essere una cosa positiva Perché prendono lo slancio E riescono a superarmi La pompa di benzina lì sotto Non lo so Lei proprio è uno schifo Cioè si vergogni Cioè raga Manco c'ho voglia di segnarlo Non lo segno Voglio dimenticarmelo completamente Quindi prossimo veicolo Fammi dimenticare Il BF Surfer Purtroppo Next one Albany Emperor Berlino Ho detto fammi dimenticare Il BF Surfer Invece no Mi schiaffano davanti Sto 14 Abbiamo l'Emperor arrugginita Riuscirà a farmi qualcosa di buono Non lo so Poi tempo fa Mi ricordo che la tornada Era considerata la compara dell'Emperor E io tempo fa pensavo che l'Emperor Fosse sportiva e classica Perché appunto era vecchia Cioè unicamente per quello Dove mi va stavolta Oddio santissimo Non da labanero Fermati prima Schiantati Ingroppati La siepe Bravissima Ok Meno male L'Emperor Non disegna l'accoppiamento Con insomma Le siepi Quindi al momento Secondo posto Spero per poco E andiamo col prossimo veicolo Che io so Che l'ha riservato fino a questo momento Perché prossimo veicolo Randomizzato Abbiamo il powder Avrei detto freddo il pagliaccio però Mi raccomando Lei è grosso È veloce Supererà i 400 Secondo me no Madonna se va piano Come cazzo Non sto capendo il motivo Per il quale questo powder E' andato così piano Cosa va a fare sul tubo Non deve andare sul tubo Attenzione che fa le cose belle sul tubo Cioè cose belle insomma Fa le scintille sul tubo Dove sta andando Dove va Non mi uccida nessuno Avevo dimenticato di aver tolto Il coso del traffico Next one abbiamo questa volta Attenzione Pegassi vacca super Meno male Una macchina buona Riuscire alla vacca A farmi le cose belle Lo spero e me lo auguro Sono statuto uscita Dei 400 Quanto 450 Ma deluso Pensavo molto di più Allora Dove va Ma fa schifo oggi Perché Ragazzi stregonneria Io non so per quale motivo Quest'oggi la vacca fa schifo La vacca Cioè ultimamente Mi sta diventando decisamente buona A parte oggi Quindi non dico terzo posto Ma anche secondo Visto che l'empera Ha fatto schifo E invece in questo caso Ce le siamo presi in quel posto Peccato per la vacca comunque Che si piazza al momento Al quarto posto Prossimo veicolo Randomizzato Qualcosa di normale Per favore Solo super sportive È la rampa sportiva Questa rampa super Che cazzo ne so 770 Anche da lei Non mi aspetto nulla Anche se comunque è meglio Delle altre super sportive 490 Ce le metto insieme Super sportive Per me sono la stessa cosa Perché fanno schifo entrambe È una delle più veloci Forse la più veloce Non lo so Non ho visto l'empero Cioè non ci ho fatto caso Non ho visto la banero Ma dove è arrivata L'811 mi sembra Uguale No meno Addirittura meno Ha avuto una sfiga allucinante Poteva passare almeno di là Però toglie il quarto posto La vacca Ci si mette lei Niente da dire Al momento tempestato di super oggi Questa rampa Prossimo veicolo Randomizzato Qualcosa di buona Per favore Ogni tanto Dio santo È una pugnalata Ogni volta che esce fuori Ubermatch Oracle XS Coupé L'oracolo inutile Per favore Lei 470 Quanto fa 480 Una delle migliori E il salto È un qualcosa Di molto Strano Va dove è arrivato Quella sorta di SUV Nelle sportive O meno No Fa come l'811 Meno male Ogni tanto qualcosa di bello Si fermi Ecco appena dico Meno male Questa mi fa dei metri Si fermi contro il palo Ecco Intanto comunque Non dovrebbe essere troppo avanti Dico bene Forse terzo posto O forse quarto Non lo so Non ci sto capendo Perché sono decisamente Uno di fianco all'altro Forse quarto posto Allora I veicoli che non dovevano mai vincere Una rampa Erano l'Emperon E l'Emperon ha vinto Lo Spido E lo Spido ha vinto Purtroppo questi due Anche più di una volta Dopodiché Qual è il prossimo Che non voglio che vinca C'è l'oracolo Che si sta avvicinando troppo Alle prime posizioni Ma io non lo voglio assolutamente L'Escolabus Quello proprio L'ultimo veicolo Che vorrei vincitore E poi cosa ci potrebbe ancora essere C'è cazzo Se dovesse vincermi L'Escolabus Una rampa Vuol dire che È stata proprio Una rampa di merda Comunque la Sorge Ha fatto schifo Ma non c'era da meravigliarsi Anzi non so manco Per continuare a utilizzarla La Sorge Next one Abbiamo questa volta Un coso Un coso incastrato E abbiamo una mascol Della Vapid Questo cosa vuol dire Che c'è E' Vapid Quindi fa schifo E' una mascol Quindi sulle rampe Fa ancora più schifo Risultato uguale schifo Se si va per esclusione Dove sta andando lei Dove mi va Mi supera almeno la vacca Che sarebbe una cosa buona No va sul tetto Mi va sul tetto Questa probabile O va più avanti No va più avanti Pensavo meno Però in teoria Dovrebbe essere dietro La vacca Forse Diamo un'occhiata Anche se so che Alla fine della rampa Questo segnalino Non verrà mantenuto Manco morto Intanto comunque La mettiamo al settimo posto Direi Orando poi fai tu Però insomma C'è Intanto abbiamo la tornado E non mi dai il rumpo E non mi dai il burrito E non mi dai il beef commerciale Non mi dai il barrax Non mi dai sto cazzo di pagliaccio Che aspetto da almeno tre mesi Per favore Maledizione Intanto la tornado Ha fatto un gran salto E mi può Forse cambiare La classifica là davanti Cioè oddio poteva Adesso non so dove stia andando Va nei parchetti qua No No Se becca il marciapiede Fa le cose belle Se becca le panchine Un po' meno Ok Terzo posto O secondo Secondo posto Meno male Tira giù l'emperor E adesso ne manca solo uno Solo un veicolo Dopodiché avremo quell'emperor Maledetta Giù dal podio Non vedo l'ora Ma va bene qualsiasi veicolo E anche Non lo so Cioè Qualsiasi no Lo speed o no Tipo un'ambulanza Uno stockade Van bene anche quelli Next one abbiamo la tyrant Inutile anche questa Assolutamente Dove mi va Cioè mi grata qua per terra Questa non riesce neanche a saltare Guardate Comincia a rotare a casa Dopodiché si blocca Di sasso Ecco in questo modo Dai io per carità Qualcosa di normale Dico Lontanamente normale Perché ho detto normale Cari indirettante Compatte Una delle macchine Più inutili Tu le rampe Vediamo un secondo Quanto esce 450 Santo dio Possiamo beccare gli aerei Ragazzi Vecca l'aero Vince la rampa Facciamo una roba del genere Perché sarebbe troppo figo Vedere un incidente All'alta quota L'atterraggio È una cosa abbastanza schifosa Però mi supera Lockknife Direi Vediamo oppure no Non ne ho la più palida idea Sì me la passa Meno male Anche la vacca Forse anche la vacca Ma di poco Allora Non so se c'è qualche Sortileggio magico Per far uscire il pagliaccio Però intanto Next one abbiamo Obeyro Cotto Sub Meno male Il primo veicolo buono Di quest'oggi Oltre alla banero Ovviamente Riuscirà a fare qualcosa di bello E l'ha tornato Non lo so 500 rotti in tante Il king della rampa Cioè non ho visto la tornata Non me la ricordo Dove sta andando Dove cavolo sta andando Forse mi supera la banero In teoria sì E anche in pratica Quest'oggi la dominano i sub Cioè non so per quale motivo Ma la dominano Dove va? Non che c'è il cancello qua C'è il cancello C'è il cancello Seconda cosa Schiva la parcheggio challenge Di nulla Che dire ragazzi Tanta roba Cioè assolutamente Complimenti I sub stanno martellando tutti oggi Quindi ristabiliamo le gerarchie Next one Fred il pagliaccio Ma che è un altro sub Benfactor XLS Sub Per carità Cioè dico solo questo Mi faccia di più del coso Della Tyrant Per favore I 400 Mi ritocca Sì quasi anche 480 Niente male Pensavo molto peggio Mi riuscirò a superare No questo dove va Sta già rallentando Non so perché Alcuni sub siano fortissimi Altri facciano decisamente schifo Cioè in volo Mi sembrava facesse come l'hot knife L'atterroge invece ha fatto una roba del genere Non lo so però intanto È settimo direi Direi di sì Settimo posto Sette appunto Come sono le lettere del pagliaccio Se gli togli tre lettere Abbiamo lo shutter V12 Perché Che mal ho fatto io Per favore Mi faccia qualcosa di decente Dico solo questo Riuscirà a beccarmi 500 Sì quasi beccati Una delle migliori In accelerazione Niente da dire Vediamo un secondo Mi supera almeno l'ospedale Quel coso che è qua sotto Per carità No Oh sì No non me lo supera Però mi arriva bene Mi vado sul tetto bravo Ok Mi va sul tetto Becca dei metri E al momento Al quarto posto Robbe strampalate Quest'oggi Dico solo questo Intanto comunque Lo shaft Si piazza in quarta posizione Ma a me va bene anche il boxville Cioè non è che pretendo chissà cosa Ancora l'empero Non la voglio più vedere questa Next one abbiamo Ok Ma i bazzumule commerciali Finalmente Un veicolo buono Dopo il roccoto Riuscirà lei a farmi le cose belle Ma anche l'abba nero C'è l'empero labba nero Non è considerato veicolo buono Perché mi fa le cose belle Di rado Mentre oggi È stata stranamente brava 440 Ha fatto schifo Il mule Non so per quale motivo Nelle ultime rampe Non sta facendo benissimo Infatti ha fatto decisamente schifo Ma periodi Il mule delle volte C'ha voglia di gareggiare Delle volte no Ultimamente non c'ha voglia C'è poco da fare Andiamo col prossimo veicolo In ponte Ruiner Muscle Che ci sta Una bella sfida Ruiner Muscle Rocoto Niente da fare LG retro Custom Ovvero una macchina Decisamente veloce Ma inutile Infatti manco va arrivare La pompa di benzina Anzi si ingroppa Con questo coso qua Dopodichè va a sbattere Sull'autostrada Ok Tipo anche un camper Ci starebbe bene No Senza troppe pretese Next one Intanto abbiamo Ocelot Jackal Coupé Questa è molto buona Che tra l'altro Dell'Ocelot Il Jackal È il veicolo migliore Pensavo fosse l'F620 Ma in realtà no In realtà il Jackal È diciamo Uguale alla Zion Il saldo come l'ha tornato Più o meno Se mi atterra bene Però Sì Sì Molto bene Molto bene Molto bene Non ti fermare Non ti fermare Mi supera il Rocoto Il Rocoto non me lo supera Però forse mi ha passato L'Abanero Non lo so Però è probabile Secondo posto Dico bene Esatto Secondo posto Per il Jackal Passa L'Abanero E si piazza subito Alle spalle del Rocoto Quindi al momento abbiamo SUV Coupé SUV Next one Abbiamo l'autobus Veicolo Anche questo Inutile Cioè non lo so Magari No fa schifo Non diamo false speranze Di incoraggiamento Non mi aspetta assolutamente nulla La velocità dei 400 Dico bene sì 400-01 Oh mi fa meglio Della Tyrant lo stesso E meglio del BF Surfer Quindi insomma Questo fa capire Il livello di schifo Riuscirà a superarmi Uno svogliato mule Non lo so Forse sì Vediamo l'atterraggio No Ha fatto una cosa strana Sembrava tipo Facesse breakdance Ma va bene Ragazzi per il prossimo torneo Delle rampe Stavo pensando a una roba Una sorta di sfida Ovvero come avevo già detto Tempo fa Intanto abbiamo la Grot X-80 proto Una sorta di sfida Tra case automobilistiche Dove avremo la possibilità Faremo una casa Contro un'altra casa Dove ci saranno Trovi pochi veicoli Faremo tipo Tre case O quattro case Tutte e quattro Una contro l'altra Intanto ha fatto schifo lei Anche se sarebbe un po' Da riguardare Perché ovviamente L'HV spaccherebbe il culo a tutti E ovviamente Intanto abbiamo Ubermatch Zion Cabrio Cooper Cioè quest'oggi Abbiamo iniziato Con veicoli di merda Dopodiché siamo usciti Con Rocoto Abbiamo avuto il Jack Abbiamo avuto La Tornado E adesso la Zion Riescerà a farmi bene Probabile Stavo dicendo comunque Ci sono alcune case Che sono squilibrate Come l'HV Con il Barracks Il BF commerciale Tutti quei veicoli lì La Declasse L'ha provato Sono abbastanza squilibrate Rispetto alle altre Mentre per quello Che riguarda La Zion Ha fatto un bel atterraggio A sacco di patate Che gli vale Il quarto posto Non supera il Jackal Pensavo facesse qualcosa di più E devo dire la verità Anche perché per me Ha fatto il salto più bello Era campo aperto Mi fosse atterrata bene Sarebbe arrivata prima Proprio confermandolo Fino alla fine Next one Abbiamo pattuglia della polizia Rivelazione della rampa Di qualche giorno fa Che era la rampa Nelle foglie Che è stata la rampa complicata Mi sembra È un altro di quei veicoli Delle emergenze Che è assolutamente Mostruoso Dove sta andando Madonna Se mi atterra bene Non mi becca nulla Mi passa chiunque Questa Stampata contro la siepe Diretta Direi sesto posto Se non erro Esatto Sesto posto L'Emperon nel settimo Mancano ancora tre posizioni Lì davanti Dopodiché L'Emperon la butteremo via E non c'è cosa Che mi renda più felice Prossimo veicolo Randomizzato Abbiamo Una barca No Abbiamo la Roosevelt Anche questa è inutile Dai ma non becca neanche i 400 Sta macchina Cosa sta facendo No le ha beccate per miracolo Oddio Ha fatto meglio di tanti altri Devo dire la verità Mi aspettavo di peggio Dai si è comportata piuttosto bene Cioè ok L'atterraggio ha fatto schifo Molto schifo però I miei aspettative erano BF Surfer Quindi al momento Non posso assolutamente dire nulla Next one Avemo il Packer Uno dei pochissimi veicoli commerciali Inutili Perché sono troppo pesanti Cioè Questo L'Haller Il Phantom Guardate Non vuole un cavolo Cioè non vuole un cavolo È meglio del BF Surfer Questo è palese Però l'atterraggio come il mule Uguale al mule Fotocopie proprio Io non l'ho più detto presto Ho inteso che voglia quel pagliaccio Quindi Vapid Sforami fuori un bel furgone Non questo Non lo voglio Non voglio nemmeno questo Quando dico Vapid Sforami un buon furgone Voglio dire il pagliaccio Non voglio dirlo spido Tantomeno il custom Che fa ancora più schifo Dello spido normale Io devo stare zitto Perché io appena parlo Succedono le cose Sembra quasi che il random Mi prenda per il culo Il salto però è buono No Sbatti qua sotto Ti prego fermati Ma sul tetto dell'ospedale Ma passa almeno l'empero Che me la cavo di lì Ci ho sperato Cioè per un attimo Ho sperato mi superasse l'empero Si piazza comunque In ottava posizione direi Dico bene No Il nona Lo spido casta non fa schifo Cioè Non dico nient'altro Next one abbiamo la surana Che questa è inutile Rimango dell'idea Che ci sia un complotto Per non farmi avere il pagliaccio Mi manca anche un sacco il paradise Cioè quelle belle sfide burrito paradise Che si erano formate Non ci sono più Ho fatto un salto di merda Quindi adesso il random Da bravo Un bel burrito Un rumpo E un paradise E siamo a posto No mi da il gufo Del santo spirito Ma non lo so Dello spirito santo Insomma Il barchino dei gelati E una tornado Che finisce di sotto Allora posso usarla Perché è una tornado normale Quella che ho avuto prima È stata la tornado custom Quindi i veicoli custom Sono veicoli custom E i veicoli normali Sono veicoli normali Il salto è molto buono Meglio della tornado custom Assolutamente si Si prende la spinta Lei mi fa una prima posizione No Queste proprio sacco di patate Atterrano e si fermano Niente da dire Però intanto guadagna La quarta posizione Direi si Quarta posizione E butta ancora più indietro l'Emperor Quindi Emperor Ottavo posto Il mio sogno Buttarla fuori del tutto Next one Qualcosa di bello Per favore Allora La fusillade Sportive Allora il suo salto Per le rampe Lo stesso valore Che ha per un terrapiattista L'Australia Di conseguenza Abbiamo già detto tutto Dove va? Dove va? Mi fa schifo Ovviamente dove sta andando Mi fa come la vacca Più o meno Simile No un po' meno Se non becca il palo Un miracolo Perfetto Ragazzi direi di andare Con gli ultimi due veicoli Perché mi sono morsicato la lingua Fortissimo Vi giuro Non riesco neanche a parlare Abbiamo la Cognoscenti 55 Da lei non mi aspetto nulla A meno che sta rampa Non ha vantaggi le berline Ma non lo so Vediamo un attimo 500 Non mi ritocca Manco nei sogni Io voglio l'Emperor Giù dal podio Quindi se mi fate una Non lo so Settima Sesta posizione Non è che mi faccia schifo Sta roba Dove va? Torna indietro Lei è inutile Se lo lasci dire È assolutamente inutile Andiamo con l'ultimo veicolo Randomizzato Mancavano due veicoli Solo due veicoli Avremmo avuto l'Emperor Fuori dalle 10 E invece purtroppo Ce la dobbiamo beccare Comunque Ultimo veicolo di quest'oggi Enus Winster Drop Neanche 500 Però le ecupe E sempre negli ultimi veicoli Quando dico Adesso faccio gli ultimi 3-4 veicoli Stante come la conoscente Uguale Mi spona sempre questa Non so per quale motivo Però ormai è buonata la fine E niente Si conclude chi dunque Questa rampa Con un rimbalzo assurdo Contro la siepe Che vede Vincitore di quest'oggi Obey Rocoto Suva Ancora una volta Il Rocoto quante rampa ha vinto Fino ad ora O due o tre mi pare Secondo posto Troviamo le coupé Con il Jackal Anche il Jackal Sponava da un sacco di tempo E terzo posto Abbiamo Labanero No figo Mi sta venendo voglia Di scoppare un idrante Cosa hai detto Frank Fica Temo che sia colpa Delle pastiglie di Jack Sparro Frank possibile Che non riesco mai a chiudere un video In modo normale